E' scattata l'ora solare, buongiorno, grazie ancora una volta di essere con noi, grazie di farci entrare nelle vostre case o da ovunque voi ci stiate seguendo. Oggi questa nostra puntata è dedicata alle persone che sanno insegnare e la parola insegnamento la possiamo estendere a tante, non voglio definire categorie, a tanti ruoli che sono tutti importanti, che sono tutti bellissimi, figuratevi se il primo è il ruolo di mamma. Ora lei in quanto a mamma e in quanto a bellezza ha tutto, è Agnese Fioretti, che salutiamo e ringraziamo, che racconta, e vado giù dritta subito, giunti editore di questo libro che ha una copertina spettacolare, la nostra vita nello spettro autistico e quindi senza complimenti, ne servono, bisogna farli? No. E con una tenacia e una penna, entrambe fortunatissime, racconta la storia di questo bimbo, Pietro, anzi è la storia di due bimbi in realtà, ma la storia di Pietro che nasce nel giorno di primavera del 2015. Esatto. E che? E che cosa succede a Pietro? Beh, Pietro appunto è nato il 21 marzo 2015 e nel 2017, nell'estate del 2017, lui ancora non parlava e noi abbiamo scoperto poi che il ritardo del linguaggio è molto frequentemente un campanello d'allarme per le diagnosi di autismo, quindi abbiamo fatto una serie di accertamenti, è stato ricoverato e siamo arrivati a questa diagnosi. Allora, Agnese, questo libro va letto, il libro è la voce di Pietro in realtà, e questo libro va letto perché sì, perché è un libro che parla di tutto quello, non solo che dobbiamo sapere, ma di tutto quello che prova una mamma, una famiglia, che si trova di fronte ad una diagnosi che non vorrebbe mai sentire. Però parla anche della capacità di riscrivere, non immediatamente, non siamo in un film, ma riscrivere con forza quotidiana, da qui la scelta anche di questa scrittura, un cambio che deve esistere da un istante all'altro. Come si fa a operare però questo cambio? Come si fa a passare da essere genitori di un bimbo meraviglioso che non parla, ma parlerà prima o poi, a sentirsi dire è autismo? Ma non credo che esista una ricetta univoca e questo io ci tengo sempre tantissimo a precisarlo. Allora la vostra però qual è stata? La nostra io credo sia ancora in divenire, c'è una ricetta in costruzione, non esiste una ricetta che si può trovare all'inizio, all'inizio bisogna diciamo capire e poi piano piano si ricompongono i pezzi e come io dico sempre credo che questo sia l'insegnamento più grande che io potessi ricevere da mio figlio, perché io avevo in mente una vita e poi un giorno qualcuno mi ha detto no guarda non sarà come tutta la sei immaginata perché dalle cose più piccole alle cose più grandi e però poi io comunque oggi so di essere una persona felice e contenta della propria vita, quindi diciamo che quello che mi ha insegnato Pietro è imparare a ricostruire una felicità diversa da quella che io avevo immaginato, quindi diciamo se c'è qualcuno che mi ha fatto diventare donna al cento per cento è stato Pietro. Cioè il figlio che ha insegnato alla mamma e a papà? Sì, a tutti direi. A tutti. Lei è così, è una specie di gigante con le calze apuale, ballerine, tu la vedi tutta la sua parte, lo ripeto ancora una volta, di bellezza, ma è una bellezza interiore oltre che esteriore. Troverete, questo libro è un diario, è un diario perché è un diario inframmezzato dalle lettere che una madre scrive al proprio figlio e probabilmente la verità è un diario non è una facilità di lettura, ma la voglia di leggere nasce proprio da questo, cioè dal fatto che non ci siano dei momenti strepitosi o dei momenti per i quali la musica cresce, appunto lo ripeto come in un film, ma sia un diario quasi quotidiano di vita. So che stiamo parlando di autismo, ma Agnese, questo diario chi lo deve leggere? Oltre che i genitori che si trovano di fronte allo stesso tipo di salita da fare. Ma secondo me lo deve leggere un po' chiunque abbia voglia di capire perché è normale che forme di autismo un po' più complesse come quella di mio figlio, di persone che non parlano, siano meno raccontate, ci sia meno possibilità di starci a contatto. Quindi io credo che chiunque voglia capire che l'autismo è fatto di tantissime sfumature, diciamo in questo libro ha un'opportunità di capirlo. Io ti faccio questa domanda solo perché sono autorizzata da quello che tu hai scritto. Com'è la reazione di una madre e com'è la reazione di un padre? O meglio la reazione tua e la reazione di Tommaso di fronte a una notizia spettro autistico di grado moderato. Questa è la sentenza, secondo alcuni sentenze, secondo voi diagnosi che è stata data circa a Pietro. Ma la reazione, allora le nostre reazioni sono state diverse e io anche li ho dovuto imparare a essere più matura, diciamo, perché ho poi capito a posteriori che io ho fatto più fatica di mio marito appunto a staccarmi dal concetto e dall'idea di normalità che mi ero costruita. Quindi in questo senso mio marito è stato il mio esempio. Lui è diventato lui il capitano della nave in quel momento? Ma capitani secondo me bisogna esserlo insieme necessariamente su questa nave, però in questo caso è stato lui il mio faro, cioè è stata la sua reazione che mi ha aiutata. Perché la rabbia, perché l'incredulità, perché, scusatemi lo dico con franchezza, perché il proprio a me è qualcosa di fronte al quale nessuno di noi può osare pensare il contrario, però c'è poi quella, Agnese ha usato il verbo ricostruire, ma in realtà, infatti tu così avevi detto, è la costruzione di una nuova felicità che è possibile che si può fare, tant'è che nella dedica di questo libro entra in campo un altro personaggio. Uno è Pietro, ovviamente, che è un inno alla vita e poi c'è Elia che ha acceso la luce. Di Elia vi parliamo tra un attimo con Pietro e con la mamma. A tra poco, grazie. Questa è la storia di Agnese Fioretti, di suo marito Tommaso, di Pietro e di Elia. In questo caso è la mamma, qui in studio con noi, con il suo sorriso, la sua forza, la sua grazia. E questo libro, La voce di Pietro, La nostra vita nello spettro autistico, edito da Giunti, un libro che è un diario, non è un diario quotidiano, ma è come se fosse un diario quotidiano, inframezzato dalle lettere, che è una mamma, ma le lettere, in questo libro si parla di tutto, si va dall'ippoterapia ai tortellini, passando per Peppa Pig, andando ai pennarelli colorati e raccontando la vita di ogni giorno. Allora, l'accettazione, il lungo lavoro che comporta questa accettazione è poi colui che accende la luce, Elia, cioè fare un secondo bambino o bambina, se fosse stata una femminuccia, dare un fratello o una sorella a Pietro. Perché? Ma io ho imparato a essere sempre molto sincera, quindi credo che il primo vero motivo fosse che lo desideravo io, cioè io desideravo di vivere un'altra genitorialità, insomma volevo regalarcela, ecco, quindi questo sicuramente è il primo motivo, il secondo non meno importante è che io ero terrorizzata all'idea che Pietro fosse solo, non tanto adesso perché ci siamo noi ma in futuro. Certo. Quindi avere, regalargli quel dono immenso che è un fratello, una sorella, che è qualcuno che crescerà con lui, capirà, gli starà a fianco e saprà essere la sua forza. Sì, sì, esatto. Questo è il senso. Dovendo poi bilanciare molto tutto perché ho tanta paura che quando Elia crescerà gli imbutterò addosso troppe responsabilità, no? Quindi anche lì dovrò imparare. Però Elia sta crescendo con suo fratello. Sì, infatti Elia in realtà sta già a molte cose. La forza dei bambini è quella di capirsi del suddito, no? Prima che io gliele spieghi, sì, sì. Cioè se Pietro non parla o parla sott'acqua o parla la sua personale lingua, Elia la sta già capendo. Sì, sì, infatti una volta è capitato che lui all'improvviso ci ha detto, ma Pietro non parla. E noi siamo rimasti tutti così perché nessuno di noi gli aveva mai detto esplicitamente Pietro non parla. E però lui ovviamente aveva già capito. Ma Agnese sa, come sappiamo tutti noi. Poi è curioso, noi parliamo dei bambini, con quella forma di distacco, i bambini. Siamo tutti stati bambini. C'è stato un tempo in cui capivamo tutto, non avevamo bisogno di vocabolario, niente ci era precluso, perché eravamo bambini per l'appunto. E quindi lavorare su questo. Ora scrive Agnese, il rinforzo è qualcosa, spesso ma non necessariamente un oggetto, che appaga la persona e che può essere utilizzato come premio che la motivi a svolgere un'attività. Che cos'è il rinforzo? L'ho appena letto, però il rinforzo nella vostra vita che cosa significa? È uno strumento appunto che tendenzialmente si utilizza in ambito terapeutico, poi questa cosa ovviamente si può traslare nella vita quotidiana che può essere utile per portare quella persona a compiere un'azione o a seguirti. Nel caso di Pietro può funzionare molto un libro, può funzionare un rinforzo alimentare, può funzionare... I tortellini appartengono a questa categoria? Sì, dipende. Adesso non è in una fase proprio di tortellini, però... In che fase è ora? Direi pane. Pane. E salmone. Pane e salmone. Quindi, allora, torniamo a noi. Pietro sa scegliere. Sì. Pietro sceglie che cosa gli piaccia di più, gli piaccia di meno, che valore possa avere per lui un oggetto, una cosa o un momento della giornata. E quindi quello è sicuramente il modo di comunicare. Sì, sì, certo, certo. Poi noi abbiamo chiaramente imparato a leggere molti messaggi e continueremo a farlo perché Pietro, come tutti noi, è diciamo una persona in evoluzione. Poi con lui noi utilizziamo un sistema di comunicazione aumentativa alternativa che funziona per scambio di immagini. Cioè? Esiste questo quaderno che si chiama dei PEX, che appunto è l'acronimo di Picture Exchange Communication System. E quindi su questo quaderno ci sono delle immaginine e quando lui ha bisogno di qualcosa consegna l'immaginina. Consegna l'immaginina. Sì. Non, diciamo, non lo fa sempre e con una totale naturalezza, quindi non sostituisce completamente quella che sarebbe la comunicazione verbale, però è spesso molto d'aiuto. E dunque, Pietro è l'inizio della scuola. Pietro è l'inizio di un, e questa è la cosa bellissima, di un vocabolario che un'immagine, per esempio, lo porta a entrare in comunicazione con gli altri. Ecco, l'inserimento in una scuola, lo stare accanto ad altri ragazzini, ad altri bambini che non siano ovviamente suo fratello, che peraltro è più piccolino. Come l'avete vissuto? Come l'avete incanalato, vostro figlio? Io, a livello mio personale, l'ho vissuto sempre con i miei sentimenti contrastanti, nel senso che ero felice, però pensare che un bambino entra in prima elementare sapendo che gli altri impareranno a leggere e a scrivere e lui non lo imparerà mai, chiaramente non è una cosa molto facile da gestire. Però poi, come ho scritto anche nel libro, mi sono sempre più staccata da questa angoscia del paragone con gli altri, perché ero molto soddisfatta del suo inserimento nella classe. Cioè, nonostante Pietro non parli, nonostante Pietro ovviamente faccia cose completamente diverse dagli altri, i suoi compagni di classe lo adorano. Per il suo compleanno, che è stato poco fa, gli hanno preparato un cartellone con tutte delle frasi dedicate a lui, su di lui. E in una di queste frasi c'era scritto Pietro è sempre felice. E quindi ho pensato che andasse benissimo così. Pietro è un bambino, ci diamo del tu, vero? Mi sono persa. Sì, sì, sì. Pietro, secondo te, è un bambino che, io penso di sì, almeno dall'impressione che ne ho tratto leggendo questo libro, che conosca la felicità, che sappia cosa voglia dire il momento di gioia. È un bambino affettuoso, è un bambino che si fa voler bene. Se è arrivato a questo, alla sua piccola età, vuol dire che ha già imparato a riconoscere gli estremi di una possibile felicità? Sì, io penso di sì, è un bambino estremamente affettuoso, anche secondo me molto bisognoso d'amore, no? Insomma, come ho scritto, penso che l'autismo crei tante barriere, ne creerà anche altre che io adesso non riesco nemmeno a immaginare, però l'amore, secondo me, non è una di queste barriere nel nostro caso. Brava. Perché poi se si opera, guardate in questo caso il concetto di amore, se si opera questo succede l'impensabile, no? Sono io che spingo la carrozzina nel carrozzino di mio fratello, perché sì, perché lui è piccolo e io sono il fratello più grande. Allora, con Pietro ho imparato a respirare sott'acqua, che poi è qualcosa che facciamo per nove mesi, ma ovviamente non ne portiamo a memoria. Respiriamo in un'acqua che non è esattamente acqua, ma insomma nella pancia della mamma. Noi respiriamo quello che c'è da respirare. Come avete tu e tuo marito imparato a respirare sott'acqua con Pietro? Forse proprio partendo dalla comprensione che non era un'apnea. All'inizio io mi sono sentita in apnea, ma in realtà era la nostra vita, era quella che avevamo vissuto fino al giorno prima, aveva un'etichetta nuova, però era sempre Pietro. Si tuffa bomba in acqua a nuoto? Sì, abbastanza. Abbastanza. Questo non lo sapevo, ma lo intuivo. L'acqua è il suo elemento, assolutamente. Ci sta nell'acqua. Sì, ma lui è proprio sportivo in generale. Lui nello sport ha un livello di concentrazione che io non gli ho mai visto in nessuna. E perché secondo te? Che idea ti sei fatta di questo? Eh, perché a parte è dotato fisicamente, perché insomma è molto magro e snello e poi lo appaga, perché comunque lo sport è libertà. A proposito, definisci libertà. Questa ce l'avevo, ma non l'ho, non l'ho. Cerco di ricordarmela a memoria. Qualcosa di nuovo e due genitori? Una prima volta e due genitori un po' ostinati. Un po' ostinati, esatto. Mi è piaciuta moltissimo. Definisci libertà, due punti. Una prima volta, che può essere andare a cavallo, per esempio, fare ipoterapia, ma ai bambini non si può spiegare l'ipoterapia. Hai davanti una montagna semovente e due genitori ostinati che dicono, sai che c'è? Ce la può fare, ci può riuscire, può fargli bene anche questo. Anche con i cavalli è stato così? Sì, il cavallo ha un potere meraviglioso. Devo dire che i cavalli hanno un potere in generale, perché anche quando io assisto mi rendo conto che hanno un effetto estremamente distensivo. Lui proprio a volte scende che mi dicono, ma che è un po' addormentato, oggi non ha dormito, in realtà è talmente rilassato perché il contatto con il cavallo, il movimento lo aiutano. E poi i cavalli, come posso dire, non farebbero del male a un bambino neanche a pagamento, nel senso che una cosa piccola vicino a loro, accanto alle loro zampe, significa non muoversi, stare fermi, non scalciare, essere buoni. E hanno a loro volta bisogno di cure. E sentono questo piccolo giovane, peraltro sta cavalcando in questo caso, e a cavallo solo con una modello palio di siena, neanche, insomma voglio dire, solo con la copertina. Allora, questo corso di ipoterapia, l'importanza di relazionarsi con qualcosa di molto più grande di tema, che ugualmente forse hanno la stessa età, diciamo così, questo cavallo e Pietro. L'importanza di, lo diciamo prima Agnese, prima della sigla, sapere di vivere in un momento storico, per fortuna, dove questa malattia è, anche grazie al coraggio dei genitori, alla forza dei genitori, è raccontata, raccontabile e questo insegna molto anche a chi questa malattia non ce l'ha dentro casa, anche a chi non ha figli. Ecco, questa è, voi la stimate una vostra forza in questo momento? Sì, io penso... Quello che una volta sarebbe stato un non parlarne, un non, non voglio dire non far uscire da casa, ma... Assolutamente sì, oggi non esiste un tabù su questo. No, 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 anzi, ci sono tantissime persone che sono desiderose di capire, ma proprio di capire che cosa accade, perché effettivamente io do tante cose per scontato ed è normale che poi le persone mi dicano, cioè, che non ne avevano la più pallida idea, no? Anche appunto quando parlavamo prima del linguaggio, mi capita spesso che molte persone mi chiedono beh, ma parlerà? Ma si sbloccherà? No, in realtà questo non si sa. Ci sono persone che restano non verbali per sempre, potrebbe sviluppare... Ci sono persone che possono sviluppare a un certo punto la voglia di parlare... Quello che è certo è che Pietro incameri nelle sue orecchie, nella sua testa, tutte le vostre parole. Sì, certo. Che conosca la voce della madre, la voce del padre, la voce del fratello, il nitrito del cavallo, la voce dei compagni di scuola, che comprenda quelle parole, se no non porterebbe le foto, non porterebbe le immagini. Poi, se parlerà o non parlerà, è un fatto ancora... Potrebbe essere una bellissima sorpresa, oppure... A proposito di sorprese che non sono bellissime, il lockdown non è stata una sorpresa, o meglio, ci ha colpito tutti in mezzo alla fronte, ma per ogni persona è stata una storia diversa. Allora, vivere il lockdown con Pietro, che cosa ha rappresentato? Beh, io ero veramente terrorizzata, però ecco, rispetto, per esempio, a quando abbiamo ricevuto la diagnosi, che fu un momento di grande rabbia, ma che io rivolgevo soprattutto... Cioè, era arrabbiata per me stessa, per i cambiamenti che mi si prospettavano, io gli ero veramente angosciata per Pietro, perché comunque un bambino che ha un'agenda di attività, di terapie, di impegni così serrata, ritrovarsi... Noi abbiamo poi una casa abbastanza piccolina, in casa tutto quel tempo, sempre a contatto con il fratello, che lui doveva anche ancora imparare, diciamo, a conoscere, ad accettare come quarto membro della famiglia, io ero veramente, veramente angosciata. E invece è stato più... È andata meglio... Meglio di quanto non si pensasse. Ha avuto, ovviamente, mi ricordo, in un periodo lui iniziò a piangere tutte le sere prima di andare a dormire, e noi non capivamo, non abbiamo mai capito con certezza per quale motivo questo sia successo, però il fatto che poi abbia smesso, una volta finito il lockdown, una volta ripresa la vita, mi fa pensare... Io credo che abbia fatto quello che avremmo voluto fare tutti. Eh sì, sfogarsi. Io credo che lui abbia avuto il coraggio e la determinazione e la grazia al contempo di fare, siccome non ha barriere, Pietro, di fare quello sul quale noi forse ci siamo un po' frenati, mettersi a piangere, seriamente a piangere. Molti di noi non l'hanno voluto o potuto fare, vedi come Pietro racconta la verità, no? Sa parlare dentro l'acqua e fuori dall'acqua. Mi alzano cartelli dicendo Nicoletta, parla di Nicoletta, perché c'è... C'è questa figura, accade, no? Poi arrivano sempre figure che diventano fondamentali, importanti. Chi è Nicoletta? Nicoletta è la sua educatrice con cui lui trascorre due pomeriggi a settimana. La sua grande spalla, mettiamola così. Sì, sì, anche la mia. Anche la mia. Anche perché è arrivata nella nostra vita quando stava per nascere Elia, quindi, diciamo, era un momento per me in cui sicuramente ero più stanca, mi sarei dovuta per forza di cose dedicare tanto a un neonato. Quindi il fatto di introdurre nella tua rete un'ulteriore persona di fiducia è, diciamo, accaduto nel momento più opportuno. E per me assistere al rapporto che loro hanno creato è stato qualcosa di meraviglioso. È veramente l'unica, al di là dei familiari, che appunto se lui non la vede per un periodo quando torna, cioè sono degli abbracci, dei baci, quando lei gli dice magari Pietro, io allora vado via, lui va là, la rincorre, cioè è proprio amore. E tu sei una mamma splendida però, perché ne parli con... Sai, io non sono madre, ma ritengo che possa essere anche complesso per una mamma vedere tanta dedica d'amore da parte del proprio figlio ad un'altra persona, per quanto persona basilare, importantissima, fondamentale. E tu invece ne parli con... Ne parli come una di famiglia. Ah, sì, sì. Beh, ma perché io, come penso nessun altro, non sono una persona capace di dare solo amore. Sono anche stanca, sono a volte arrabbiata, sono a volte frustrata, quindi... C'è una bella mamma, sai. Grazie. C'è proprio una bella mamma. Quindi se ci sono altre persone... Allora, se volete commuovervi, e tantissimi l'hanno fatto, hanno commentato, e questo è un modo di usare i social, mi permetto di dire, molto giusto, c'è su Instagram, tra i tanti, un video con Pietro che accenna la canzone di un cartone animato. E lì, un pensiero a un modo futuro, futuribile di parlare o di cantare, c'è, no? Sì, perché lui ha comunque la competenza del ripetere. Quindi lui approssima delle volte quello che, chissà perché, gli va di ripetere. E la cosa divertente di quel video è che poi si sente mia madre che dice bravo, proprio sembra un'esplosione da stadio, e sotto ci furono tutti i commenti, che bello tu che gli dici bravo, invece io ci ho proprio tenuto a rimarcare che non ero io ma chiara mia madre, sempre per la cosa che ti dicevo prima, perché alla fine la nostra salvezza è la nostra rete. Voi siete una famiglia, chiudiamo su questo, e questo non sempre avviene, non sempre è possibile, non sempre c'è, ma quando c'è, e la riconfermo ancora una volta, cioè voi siete un quadrato militare forte. Eh sì, insomma si dice che per crescere un bambino serve un villaggio, nel nostro caso serve un villaggio bello, secondo me è corposo, ma noi ce l'abbiamo. Però c'è, ce l'avete. Nel caso tu, non so come tu riesca a fargli arrivare i commenti di persone esterne ed estrane che non conosce, gli fai arrivare tanti baci dalla nostra redazione? Anche a Delia ovviamente, ma a Delia proprio glieli dai, glielo dice, lo dici nella stessa maniera e fai arrivare il messaggio anche a Pietro? Certo. Grazie Agnese, è importante per noi. Grazie infinita, grazie di essere stata con noi, ripeto ancora una volta, la voce di Pietro, leggetelo questo diario perché vi sembrerà paradossale, edito da giunti, ci siamo dentro anche noi, anche noi grandi e grossi, ci siamo dentro, anche le lacrime del lockdown, siamo tutti quanti qui, quindi per favore leggete questo libro, grazie.